Un taglio annuale di 59 milioni di euro da effettuare sull'entrata del Fondo di Cuescenza, l'istituto che eroga le pensioni ai dipendenti regionali. Questa è la norma proposta in finanziaria dal Presidente della Regione, Rosario Crocetta. Queste somme, aggiunta alle altre, serviranno per finanziare l'assistenza ai disabili. Un Presidente che dà quindi la sensazione di preoccuparsi più degli effetti mediatici che delle reali e strutturali necessità dei disabili e che vorrebbe mettere le mani sull'unico ente regionale inattivo, commenta il Cobas Codir, al quale se la norma passasse in cambio delle somme sottratte verrebbero rifilati immobili che in un momento di crisi immobiliare come questo potrebbero significare in realtà mettere in campo una vera e propria azione di pirateria finanziaria che rischierebbe di compromettere la tenuta stessa del Fondo Pensioni. Il Fondo verrebbe così scandalosamente in possesso anche di una serie di immobili ristrutturati circa 15 anni fa spesi alla Regione, venduti poi a società private varie, continua il Cobas Codir, e contestualmente ripresi in affitto per mantenervi i propri uffici. Gli immobili in questione verrebbero appioppati al Fondo Pensioni che, anche allo scopo di renderli utilizzabili, dovrebbe distanguare le proprie casse in improbabili e costosissimi lavori di ristrutturazione e di adeguamento. Il sindacato si appella a tutti i parlamentari dell'ARS per respingere tale norma illegittima reperendo le risorse necessarie per la disabilità siciliana in modo strutturale e non attraverso una tantum e contestualmente, esattamente come nel resto del Paese, approvare una norma che trasferisca tutto il personale regionale alla gestione IMSS mettendo così al riparo dalle scorribande responsabili del governo regionale presente e futuro. Il Movimento 5 Stelle all'ARS annuncia il suo voto contrario all'ultima e forse la peggiore finanziaria targata crocetta che non ha messo nulla, proprio nulla, ha detto Francesco Cappello sul piatto della Sicilia. Una finanziaria messa in piedi da un governo che ha continuamente snobbato il Parlamento e che non ha tenuto conto di nessuna delle esigenze che arrivano da fuori dal palazzo, in primis quelle dei comuni ormai ridotte in braghe di tela.